Buongiorno a tutti, benvenuti di nuovo a questo corso di Cristologia in Briciole. Dopo un bel po' di problemi tecnici riprendiamo il nostro corso e questa volta parleremo delle testimonianze romane antiche sul Gesù storico. Nella prima lezione, per chi è riuscito a sentire l'audio, abbiamo sottolineato alcuni aspetti fondamentali che Giova riprendere qui per recuperare il nostro percorso. Abbiamo parlato del fatto che sul Gesù storico abbiamo tantissime testimonianze storiche se lo paragoniamo con altri personaggi della storia, anche personaggi contemporanei ed è altissima levatura storica come l'imperatore Tiberio. Abbiamo detto che su Gesù abbiamo oltre 40 testimonianze extrabibliche, mentre sull'imperatore Tiberio ad ora abbiamo soltanto 10 testimonianze in totale, di cui una, quella dei Vangeli, quindi una biblica, per cui sarebbero solo 9 testimonianze sull'imperatore Tiberio, contemporaneo di Gesù. Naturalmente stiamo parlando delle testimonianze nell'arco di 150 anni dalla loro morte. Per cui la domanda di fondo cambierebbe moltissimo. Non è più se ci sono testimonianze sul Gesù storico, ma come mai su un ebreo così marginale ci sono così tante testimonianze? Oggi parleremo di ben tre testimonianze importanti dell'antichità. Tutte e tre sono testimonianze che vengono dal mondo pagano, riservandoci per puntate successive le testimonianze che vengono dal mondo ebraico, dal mondo giudaico. La prima testimonianza è di Cornelio Tacito, uno storico romano importantissimo, forse il più grande della sua epoca. Anche gli studiosi contemporanei lo considerano uno studioso e uno storico scruppoloso, per cui la sua testimonianza ha un grande valore. La testimonianza sul Gesù storico si trova nelle annales, negli annali di Tacito. Tacito racconta in quel libro la storia romana dai tempi di Augusto fino ai tempi di Nerone. E proprio parlando di Nerone e delle sue follie, soprattutto nell'ultimo periodo del suo regno, che Tacito esplicitamente contesta, parla dell'incendio di Roma, per il quale vengono accusati i cristiani. Leggiamo insieme quello che dice Tacito nelle sue annales. Riferendosi a Nerone, dice Questa prima parte della testimonianza che abbiamo appena letto di Tacito ci conferma sulla pacificità del fatto dell'affermazione dell'esistenza di Gesù da parte di uno storico romano, che guarda comunque ai cristiani con un po' di disprezzo. Dice che il popolo li odiava per i loro delitti. Nel seguito di questo riferimento Tacito parla della diffusione del cristianesimo. Ascoltiamolo. Momentaneamente soffocata, questa rovinosa superstizione si diffondò di nuovo, non solo per la Giudea, origine di quel flaggello, ma anche per Roma, dove da ogni parte confluiscono e trovano seguaci ogni sorta di atrocità e cose vergognose. Come possiamo vedere, l'idea di Tacito riguardo ai cristiani non è tra le più rosee, non è tra le testimonianze positive, ma a noi serve moltissimo comunque per avere un riferimento extrabiblico non solo su Gesù Cristo, anche sulla diffusione del cristianesimo, una diffusione tra l'altro che è attestata sia nelle lettere di San Paolo sia negli Atti degli Apostoli. Passiamo adesso alla seconda testimonianza che abbiamo scelto per questa lezione. È la testimonianza di Gaio Cecilio Plinio II, noto anche come Plinio il Giovane. Plinio fu nominato da parte dell'imperatore Traiano come procuratore, come legatus per la Bitinia. Nella lettera decima si rivolge appunto all'imperatore per chiedergli consiglio su come comportarsi con i cristiani. Scrive Plinio il Giovane all'imperatore E spiega nelle lettere che, dato il grandissimo numero di accusati, si è trovato in grande difficoltà nel discernere quali supplizi e a chi applicare i supplizi perché i colpevoli venivano non solo da ogni ceto sociale, venivano anche da ogni età, quindi c'erano gli anziani e i giovanissimi, i bambini, e c'erano anche donne e uomini. E quindi Plinio, proprio per comportarsi come si deve, si rivolse all'imperatore chiedendo consiglio. La lettera continua così. Sono rimasto non poco esitante se bisognasse aver riguardo dell'età degli accusati o nessuna differenza bisognasse fare tra giovinetti e adulti. Poi continua la sua narrazione riportando a Traiano la sua prassi tenuta fino ad ora. A quelli che avevano rinunciato alla loro fede cristiana o che avevano confessato di non essere mai stati cristiani, Plinio faceva pronunciare una formula in onore degli dèi, poi li faceva offrire incenso davanti all'immagine di Traiano e poi gli chiedeva anche di maledire Cristo e aggiungeva a nessuno di questi atti, si dice, possano essere costretti quelli che sono veramente cristiani. Poi Plinio parla di una denuncia anonima, una denuncia molto interessante per noi perché ci aiuta a capire come vivevano i cristiani e come veneravano Cristo come Dio. Affermavano poi che la loro colpa o il loro errore consisteva nella consuetudine di adunarsi in un giorno stabilito prima del levarsi del sole e cantare tra loro, a cori alternati, un canto in onore di Cristo come a un Dio, canendum Cristo u Deo in latino, e di obbligarsi con giuramento non a compiere male azioni, ma a non rubare, a non ammazzare, a non commettere adulterio, a non tradire la parola data, a non rifiutare, se richiesti, di restituire il deposito. Dopo la descrizione della prassi cristiana, confessa anche a Traiano di aver forzato due schiave, note come diaconesse, a raccontare altri dettagli sul culto cristiano, ma Plinio poi chiude questa valutazione e questa presentazione del culto cristiano con queste affermazioni. Dalla testimonianza di Plinio trapela il pregiudizio pagano contro il culto cristiano, un culto descritto con dettagli chiari, che si vede che sono stati tirati fuori dalla bocca di partecipanti al culto, siano essi tra quelli che sono rimasti ostinati nella fede cristiana, oppure quelli che hanno lasciato la fede cristiana e comunque continuato a raccontare quello che facevano i cristiani nelle loro adunanze. È molto interessante vedere che il culto di Cristo come Dio è un culto antichissimo, noi naturalmente sappiamo che è presente anche nel Nuovo Testamento, ma questa è un'ulteriore testimonianza che viene dal di fuori del Nuovo Testamento. Dopo la testimonianza di uno storico e la testimonianza di un uomo politico, adesso passiamo alla testimonianza di un retore, Luciano di Samosata. Luciano di Samosata scrive un libro, La morte di Peregrino. L'opera La morte di Peregrino racconta il suicidio di Peregrino, che era un filosofo cinico, per un po' di tempo si era convertito al cristianesimo e la testimonianza che tiriamo fuori da questa opera di Luciano è proprio la parte in cui parla della sua conversione al cristianesimo e quindi anche di Cristo. La cosa interessante è che Luciano non nomina Cristo per nome, proprio per disprezzo verso la sua persona e per disprezzo verso i cristiani, un disprezzo che trapela dal testo. Ora Proteo Peregrino venne a conoscenza della portentosa dottrina dei cristiani, frequentando in Palestina i loro sacerdoti e scribi. Data la sublime intelligenza di Peregrino, i cristiani lo presero come un grande maestro e Luciano aggiunge parlando di lui. Lo avevano elevato a loro protettore a somiglianza di colui che essi vennerano tuttora, l'uomo che fu crocifisso in Palestina per aver dato vita a questa nuova religione. Ecco, l'uomo che fu crocifisso in Palestina è Gesù e il seguito dell'opera parla dell'insegnamento che questo fanatico, secondo Luciano, ha trasmesso ai suoi seguaci. Ascoltiamo. Si sono persuasi, infatti, quei poveretti di essere affatto immortali e di vivere per l'eternità, per cui disprezzano la morte e i più si consegnano di buon grado. Inoltre, il primo legislatore, un altro modo per chiamare Cristo senza chiamarlo, li ha convinti di essere tutti i fratelli gli uni degli altri, dopo che abbandonarono gli dèi greci, avendo trasgredito tutto in una volta, e vivono secondo le sue leggi, e adorano quel medesimo sofista che era stato crocifisso. Di nuovo, in Luciano, abbiamo una testimonianza sull'adorazione che i cristiani già dall'antichità riservavano a Cristo. Questa testimonianza e queste testimonianze si riveleranno ancora più interessanti nel percorso del nostro corso. Abbiamo esplorato insieme molto brevemente tre testimonianze pagane sul Gesù storico. Come possiamo notare, un cristiano medio conosce molto più sul Gesù storico di quanto dicono queste testimonianze. La loro importanza, infatti, non è nei contenuti approfonditi che presentano, ma semplicemente nella testimonianza che ci danno del Gesù storico, una testimonianza anche sull'insegnamento di Gesù, sulle abitudini dei primi cristiani, e inoltre una testimonianza su come venivano visti i cristiani da filosofi, da storici, da politici e da satiri del mondo pagano. Nella nostra prossima lezione guarderemo altre due testimonianze pagane per poi passare alle testimonianze del mondo ebraico. Vi ringrazio per il vostro ascolto, ringrazio anche chi ha incoraggiato questa iniziativa dopo il primo video uscito malissimo con l'audio per diverse vicissitudine tecnologiche. Ho ricevuto comunque tanti incoraggiamenti e tanti ringraziamenti per i quali ringrazio perché è sempre bello sapere che quello che fai è sostenuto dalla preghiera degli altri e anche gradito dalle loro intelligenze. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento. Il Signore vi dia pace.